Rimane tinta di giallo la morte di Mirko Boschri, il 54enne trovato cadavere sabato scorso al civico 37 di Viale Milano a Vicenza da due elettricisti giunti per un lavoro. Il pubblico ministero, Serena Chimichi, ha aperto un fascicolo di inchieste ipotizzando il reato di omicidio colposo o volontario. Nella giornata di oggi invece è stata effettuata l'autopsia sul corpo del 54enne che, secondo un primo riscontro, sarebbe morto per i traumi subiti nella caduta, forse dal quarto piano, disposti anche gli esami tossicologici. Tutto ancora da capire, ed è quanto sta cercando di appurare la squadra mobile, cosa facesse Mirko Boschri sabato al civico 37 di Viale Milano. L'uomo, con diversi precedenti penali, risultava residente a Tiene mentre i suoi genitori a Vicenza. Da alcuni giorni però non aveva più notizie del figlio, anche se il fratello avrebbe visto l'auto di Mirko Boschri in Viale Milano già venerdì sera.